Gentili telespettatori, buona giornata. Io ve l'ho raccontata più volte la furbizia, la scaltrezza e la professionalità dei conduttori di centro-sinistra, conduttori di talk show politico come può essere Formiglie e Floris. Sono scaltri, sanno come mettere in cattiva luce gli avversari, in questo caso il centro-destra. Floris come anche Formiglie hanno una tattica che fanno? Invitano quelli di centro-sinistra e quelli di centro-destra. Invitano esponenti di centro-sinistra di serie A e invitano esponenti di centro-destra di serie B o serie C. Quelli che trova, o magari quelli che trova di sinistra non sono proprio di serie A, magari trova quelli di sinistra che vanno in trasmissione di serie B e quelli di destra di serie C o serie D, o ancora peggio. Perché fa questo? Perché vuole mettere la discussione in una sorta di squilibrio, vuole che quelli di centro-sinistra di serie B riescano a mettere in difficoltà facilmente gli ospiti di centro-destra di serie C, D eccetera eccetera. Quindi invita delle persone che fanno dei ragionamenti con persone che magari hanno anche difficoltà a mettere una parola dietro l'altra. Allora adesso per non offendere nessuno non vi dirò i nomi ma ultimamente avevano invitato un signore, non ho ben capito chi cavolo era ma era uno che aveva veramente difficoltà a spiccicare due parole e mettere due parole una dietro l'altra. Proprio si vedeva che era il classico tifoso di centro-destra ma di un livello molto basso e veniva messo in difficoltà da quelli di sinistra matematicamente. Cosa succede? Che Floris invita questo Magliano che è uno di lungo corso nel centro-destra però insomma si vede che non è proprio un grande Einstein. Ve lo dicevo, Floris lo fa apposta a invitare quelli di centro-destra così così sperando di riuscire a portare acqua al suo molino cioè di portare in alto le idee della sinistra e dimostrare quanto a destra siano superficialotti banalotti eccetera eccetera. E così Floris finalmente riesce nel suo intento. Qual è il suo intento? Questo Magliaro dopo che diverse puntate dice le sue opinioni, racconta le sue opinioni insomma ti fanno un po' vergognare della sua appartenenza al centro-destra però alla fine Floris ci riesce perché questo Magliaro a un certo punto dice io sono fascista e allora chiamati i carabinieri Floris non ci poteva credere aveva raggiunto il suo obiettivo che era quello di invitare qualcuno un po' così che alla fine dicessi sono fascista e allora c'è riuscito Floris e con sua estrema soddisfazione ieri ha aperto la puntata proprio contro e parlando di questo invita un ospite che lo intervista proprio face to face faccia faccia che era quello che si era scontrato con Magliaro che questo Magliaro alla fine aveva risposto a questo ospite io sono fascista ecco allora Floris invita quello di sinistra gli fa un'intervista allora hai sentito cosa vuoi rispondere a Magliaro che ha detto sono fascista rivediamo il filmato quindi ha iniziato la sua trasmissione esaltato e fiero Floris perché finalmente c'era riuscito era riuscito nel suo obiettivo ecco il sempliciotto di destra aveva dichiarato io sono fascista e allora ecco quindi ha parlato all'inizio puntata per un bel po' su questo che in trasmissione da lui si è dichiarato fascista come dire dicono che non esistono più questo non si è dichiarato neanche neofascista proprio fascista perché il neofascista è quello che viene dopo è quello che non ha mai visto il fascista lui che insomma ve l'ho detto non è proprio un Einstein al posto che dire io sono neofascista che sarebbe stata la cosa corretta da dire neofascista io sono fascista non sapendo che il fascista non può esistere più perché il fascista è una persona che ha vissuto anche in parte quel tempo della dittatura quindi lui non può essere un fascista a meno che non abbia chissà quanti anni ma neofascista vabbè insomma è così la tecnica è la stessa che utilizza formigli ti invita quelli che riesce di sinistra i migliori che trova di sinistra e poi cerca i peggiori di destra in modo da far vedere a chi guarda la trasmissione la differenza tra il migliore di sinistra che ha trovato e il peggiore di destra che ha trovato quindi cercano questi conduttori proprio di mettere questa differenza iniziale in modo da poter mettere facilmente in difficoltà questi che ha preso di destra un po' così è una tecnica che utilizzano tutti i giornalisti di sinistra perché sono furbi sono furbi quelli di destra non sono furbi queste tecniche manco da lontano e così in questi programmi di sinistra si riesce a denigrare il centro-destra facendo passare il mondo politico di centro-destra attraverso questi personaggi un po' sempliciotti quindi questo serve a far vedere a tutti elettori di destra e elettori di sinistra che poi alla fine quello di destra è come si è sempre detto un po' superficialotto che non riesce manco a parlare in trasmissione questa è quella famosa presunta superiorità del centro-sinistra che questi conduttori cercano di mettere in atto cercando durante la settimana il migliore di sinistra da portare che trovano è il peggiore di destra da portare in trasmissione in modo che quando parlano da sole queste persone il conduttore non ha neanche bisogno di fare commenti perché quando fai parlare quello di destra che hai scelto il peggiore che hai trovato nella settimana quando parla da solo fa capire il suo livello non c'è bisogno che il conduttore il conduttore lo fa indirettamente cioè quello che lui vuol far trapelare nella trasmissione lo fa facendo questi inviti e così con questo Magliaro c'è assolutamente riuscito e la puntata seguente n'era assolutamente contento e fiero e ha cominciato la trasmissione proprio con Magliaro che si definisce fascista grazie a tutti e buon proseguimento di giornata